Si prende atto che non si ravvisa nessuno stato di avanzamento delle procedure richieste, nonostante le continue interlocuzioni. E' un passaggio della lettera che Franco D'Amico, portavoce e reccomitato, Terino Morandi, ha scritto al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara per alzare il livello dell'attenzione sui due stiruti sul Mone si chiusi da 17 ottobre 2014 per i presunti lavori sbagliati post-sisma. L'inchiesta della Procura della Repubblica del Capoluogo si era chiusa lo scorso anno con la sentenza di prescrizione per i sette imputati ma i sigilli a distanza di dieci anni non sono stati ancora tolti sull'edificio scolastico, per questo il comitato si è rivolto al ministro e al prefetto Giancarlo Di Vincenzo per chiedere un incontro urgente con le parti interessate. Il tutto a pochi giorni dalla manifestazione di protesta che sarà fissata per giovedì dalle 10 alle 11 in via d'Andrea dove si trova la sede storica di ragionire geometri. Non si ha notizie in merito all'avvenuto o meno di sequestro dell'immobile né ai tempi e modalità di esecuzione dei lavori che dovevano essere appaltati sin dal mese di marzo, scrive D'Amico nella lettera. Il comitato nei giorni scorsi aveva fissato la protesta proprio in concomitanza con il decimo anniversario di chiusura della scuola. In 150 si regheranno davanti ai cancelli del Denino Morandi. D'Amico ha chiamato a raccolta ex alunni, ex docenti, commercianti, studenti. Tuttavia la manifestazione non è stata autorizzata dalla presire dell'istituto, Luigina D'Amico. Trattandosi di una protesta, la dirigenza scolastica non concederà formalmente via libera agli studenti per saltare le ore di lezione e unirsi al sit-in in via d'Andrea. Per questo i 120 ragionire geometri potranno partecipare alla protesta in maniera autonoma senza giustificazione o autorizzazione. Dopo otto anni di permanenza nell'Iti di Pratola, gli studenti sono rientrati in città a settembre 2022 nella sede alternativa di Viale Mazzini. Gli resteranno almeno fino al 2026, come deciso da Caruso. Non si è ancora riusciti, dopo dieci anni, a bandire la gara d'appalto e i lavori.